ciao ragazzi 365 giorni con vale vi faccio vedere questo orecchino qua questo l'ho preso su aliexpress guardate quanto è bello cerchio con cerchio più grande e tutti gli altri cerchi ci sarebbe anche questo questo è il suo però come vedete si è staccato solo che non ho capito poi questo dove lo devo riattaccare quindi se che lo lascerò così ne prenderò un altro un altro paio intendo però molto ma molto bello vedete cerchio di cerchio di cerchio molto bello e questo qua l'ho pagato un euro e venti su aliexpress bello 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 con altrettanto bello perché con molto risparmio ciao alla prossima